Pagelle, Monza, Juventus, allora, Perin, sei, Bremer, tre, Danilo, tre, Gatti, tre, De Sciglio, due, McKennie, tre, Paredes, tre, Miretti, tre, Vlaovic, tre, Kostic, tre, Di Maria, osceno, vergognoso, quel che ha fatto, suizzo, ma comunque senza voto, Ken, senza voto, Fagioli, senza voto, sulle, senza voto, Landucci, tre, Allegri, out, Allegri, out, esoneratelo, dimettiti, società, ma svegliatevi, ma svegliatevi, fate uscire quel maledetto futuro coraggio, e mandatelo via, e mandatelo via, e mandatelo via, Allegri, out, Allegri, out, bisogna prendere un allenatore che faccia giocare i ragazzi a calcio, a calcio, a calcio, che ci siano anche delle idee di gioco, Ma di certo, con Massimiliano, Allegri, è difficile, sarà veramente molto, ma molto difficile, molto, tanto, 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 ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, difficile De Zerbi è andato via, chi è che gironzola ancora, senza squadra, Tuchel e Zidane, poi non ne conosco di altri allenatori decenti, decenti, senza squadra, senza squadra, attenzione, senza squadra, Fatemi sapere la vostra opinione qui nei commenti, in primis, Juventino, chi prendereste al posto di Allegri, i voti di certo, pare almeno, sono giusti, potevo anche dare di meno, ma comunque, ho dato questi di voti, Aspetto delle vostre opinioni qui nei commenti, non aggiungerei altro che dirvi di lasciare un bel mi piace, e commentare, e seguirmi, e niente, e ciao ciao, e fino alla fine, Forza Juventus!